Buona moneta, per 4 anni sul miglio la fila è completa, totalizzatore molto aperto, orientato tra tu da solo, Twiggy Griff e anche truppiale Jet. La Twig rinuncia, inizia a prendere velocità la macchina. Dal centro Tang la spinge la macchina nei confronti di truppiale che cerca di rientrare con all'interno tester Charles, a largo tapiro Jet. Insiste Tang stavendo via libera dopo 200 in 13.6. Il 2 è subito a tabellone, ha avuto problemi e così parcheggia al completamento della piegata e dopo 400 metri di gara passati in 29.8 tapiro Jet. Poi tu da solo a precedere testa Charles, Twiggy Griff inizia la sua risalita. Cavalià al completamento dei 600, totale controllo del leader e ne approfitta tu da solo, 45 e mezzo i 600 e tu da solo con Insalk Levergreen di Vincenzo va deciso su Tang e lo costringe ad allungare. Mezzo miglio se ne va in uno e meno qualche cosina, tu da solo a largo di Tang, poi tapiro con allo salchi Twiggy Griff, poi testa Charles. Si va di fronte, ora tu da solo fa sul serio, chilometro in 15.1 sta passando il leggero vantaggio tu da solo. Il 5 si elimina, è così impiegata, Twiggy Griff fa guanta tu da solo. Viene via bene la lieva di gallo e sta già passando, 14.6, 1.297, i tre quarti di miglio. Si avvicina anche The Elegance. Retta d'arrivo, Twiggy Griff se ne va definitivamente e Chanteclair con questa Twiggy Griff canta il gallo e canta la gande. facile, Twiggy Griff pennellato da gallo, The Elegance batte in zona traguardo, tu da solo. 8 per il primo, 6 per il secondo, 4 per il terzo, 1.584, 1.14, 3.49, Chanteclair, Gallo, Saverio, perfetto, essenziale e fondamentale. Linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.